Sono Marco Bucci, sono Sindaco di Genova. L'imminente apertura del Monte Ceneri per noi è una notizia assolutamente importante. Siamo orgogliosi che questo nuovo pezzo di infrastruttura venga a collegare il corridoio Reno-Alpi, di cui Genova è l'ingresso da sud, il cancello di ingresso per quanto riguarda merci e persone, comunicazioni e quindi anche cultura e anche tutto quello che viene trasferito assieme alle merci, come succedeva già nel 1200, nel 1300 e da quegli anni in poi, quando il posto di Genova diventava veramente il canale di ingresso, il punto di ingresso per merci, persone e cultura. Ecco, così nel futuro noi ci aspettiamo di partecipare al corridoio Reno-Alpi attraverso la Svizzera. Sapete che Genova è il porto e l'accesso al mare più vicino per tutta la Svizzera. Noi pensiamo che questo sia un importante canale logistico. Siamo grati alla Svizzera per quello che sta facendo per il corridoio Reno-Alpi. Noi stiamo aprendo e lavorando per il Terzo Valico. Il Terzo Valico è un tunnel importantissimo di circa 50 chilometri che metterà in comunicazione Genova con il Penura Padana e così lavoreremo insieme per questo grande mezzo di comunicazione per logistica, per persone e per turismo che rivitalizzerà l'Europa per quanto riguarda i collegamenti con l'Asia. Ringraziamo il Governo e le amministrazioni locali per quello che hanno fatto. Noi mettiamo molta importanza sul turismo nella città di Genova e siamo assolutamente consapevoli che questi sono passi importanti per il futuro nostro e dei nostri figli.